buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo delle gps 2022 dell'ordinanza che è pronta per essere pubblicata e quindi partiranno i tempi per la presentazione alle domande che presumibilmente saranno tra la fine del mese di aprile e le prime due o tre settimane di maggio prima domanda chi possiede l'abilitazione della dismessa classe di concorso a 066 e possiede una laurea in ingegneria elettronica può entrare in prima fascia gps si può entrare in prima fascia gps ma non nella classe di concorso a 066 che non ammette nuovi inserimenti potrà invece inserirsi in prima fascia gps per la classe di concorso a 041 l'informatica con il riconoscimento del servizio specifico prestato nelle classi di concorso a 066 a 076 e a 086 seconda domanda con l'aggiornamento delle gps si aggiornano anche la seconda e terza fascia delle gradatorie d'istituto si contestualmente all'aggiornamento della prima e seconda fascia delle gps che sono ricordiamolo gradatorie a carattere provinciale una sola provincia con la stessa procedura si aggiorneranno anche la seconda e terza fascia delle gradatorie d'istituto per le supplenze brevi si tratta di scegliere fino a un massimo di 20 scuole per ogni classe di concorso d'insegnamento per cui si è inseriti nelle gps domanda numero 3 chi è inserito negli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle gps in fase di aggiornamento gps appunto 22 24 che tipologia di domanda dovrà presentare allora chi è inserito negli elenchi aggiuntivi della prima fascia gps rispetto agli anni passati deve entrare a pieno titolo nelle gps 22 24 facendo domanda di nuovo inserimento con il titolo di accesso all'abilitazione e l'inserimento di tutti i titoli di servizio e titoli culturali speriamo che queste risposte siano state utili al nostro pubblico seguiteci ancora nel nostro nei nostri canali social facebook youtube dove faremo anche delle dirette sull'argomento e seguiteci anche nel nostro sito www.tecni della scuola punto it per rimanere informati su questo argomento e anche altri argomenti arrivederci a tutti www.tecni della scuola punto it per rimanere informati su questo argomento e